buongiorno amici bentornati sul canale e buon inizio settimana però hashtag di merda quello ci vuole o allora è stato un weekend intenso che sabato sera ho fatto la supercena con dei miei amici mamma mia siamo andati alle 3 della notte quindi ieri mattina rincoglionimento ai massimi livelli la domenica poi la ferrari ci è andata vicina così per rivincere anche ieri la red bull ha fatto un po la furbetta però insomma la direzione gara gli è andata un po contro la red bull il discorso di perez e sainz ma comunque rispetto all'anno scorso riteniamoci molto molto soddisfatti considerate che dopo due giri ci doppiavano quindi questo sarà il vloggettino veloce di oggi entro alle due a lavorare quindi non ho tempo di fare di meglio volevo solo aggiornare che il vinilone degli oasis che ho comprato è veramente bellissimo ho intenzione di comprare anche gli altri che hanno caratterizzato diciamo gli anni 90 perché poi dopo musica un po più diversa comunque quelli lì dovrebbero essere 3 massimo 4 album viviamo dischi perché compro il vinile sento paolo al super disco se li ha disponibili se non me li sento mi può ordinare compro anche quelli perché sono veramente belli veramente veramente belli e la scena di sabato sera fatta tutta per scena si è dato tac avevo messo un sottofondo tramite alexa la playlist degli oasis siamo stati veramente top sto guardando i miei vinili che quando non avrò voglia è un lavorone grosso li devo ricatalogare tutti anno per anno perché durante la quarantena di due anni fa quando ascoltavo dischi li sfilavo poi si a grandine rimettevo un do erano però prima erano messi per benino proprio anche anno per anno con la scuola cronologia a modo insomma detto questo amici ora vi faccio ascoltare un pezzettino di un disco uno che trovo qui e noi ci vediamo domani in un prossimo video buona ciao 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 mamma mia che disco a domani ciao